Buongiorno a tutti voi, eccoci qua un'altra domenica nel campo meraviglioso dei papai e vi suonerò un brano intitolato Just a Closer Walk with the Peace Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti voi e vi auguro una buona domenica dal campo meraviglioso dei papai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti